Sono più forte, le lobby non mi fermeranno. Così il deputato regionale, Cateno De Luca, finito mercoledì scorso agli arresti domiciliari per una nuova vicenda giudiziaria che lo è investito, commenta la sentenza dei giudici del Tribunale di Messina, che ieri lo hanno assolto nel processo nato su una presunta speculazione edilizia a Fiume di Nisi, piccolo paese del messinese, dove per anni il parlamentare siciliano ha rivestito il ruolo di primo cittadino. Sono 15, evidenzia in un comunicato stampa il collegio di difesa del neodeputato regionale di Udc Sicilia Vera, composto dal professor Carlo Taormina e dall'avvocato Tommaso Michalizzi, i processi nei quali ha ottenuto una soluzione o un'archiviazione ed è ormai chiaro a tutti che si è trattata di una persecuzione per fermare un personaggio scomodo, non controllabile e che non scende a compromessi. Riteniamo, prosegue la nota, che questi anni abbiano costretto l'onorevole De Luca a rallentare il suo percorso politico, danneggiandolo oltremodo, ma queste accuse infondate non sono riuscite ad intaccare la dignità, la serietà e la forza di De Luca che ha lottato in prima linea per far emergere la verità. Non sarà più permesso a nessuno, concludono i difensori di De Luca, di creare ad hoc altre infamie contro un amministratore capace, onesto e sempre al servizio della comunità. Riteniamo che anche quest'ultima vicenda, relativa all'arresto di qualche giorno fa per evasione fiscale, avvenuta con una tempistica alquanto inusuale, abbia contorni poco chiari che cercheremo di evidenziare, dimostrando anche in questo caso la totale stranietà di De Luca ai fatti contestati. Il neodeputato dell'Udc, che si trova ai domiciliari, ha autorizzato i suoi legali a diffondere queste sue dichiarazioni. I giustizialisti a tempo, gli ipocriti a comando, gli avvoltoi sempre vicini alla stanza dei bottoni e i leoni da tastiera, saranno rimasti delusi anche da questa sentenza.